Mi chiamano Livia Lux, per cui ho inventato il luxianesimo. Ero stanca di abitare una religione che ha come simbolo un uomo crocifisso. Dio per me è amore, ma anche gioia, gioia, gioia! Sì, è vero, la mia vita mi ha appunto negli occhi e su di me più aveva ancora il dolore ammanciate. Questa è la più grande confessione che mai una teppista possa confidarvi. Però il luxianesimo ha lottato dentro di me, come un gladiatore, che più rimaneva ferito e più consacrava il suo mito. E adesso tanta gente mi ama, perché è luxianesimo. Commento. Il gladiatore di ognuno è la sua coscienza, che trae forza dalle sue ferite.